Allora, ciao a tutti, questa è la nostra casa, che ho costruito solamente per il momento questa casa Vabbè, dunque, possiamo fare qualcosa, saliamo su questo Non è successo niente, niente, non è successo assolutamente niente Mi dispiace, mi dispiace un sacco pecorelle Dai, torniamo a casa, torniamo a casa, torniamo a casa Cavolo, 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 cavolo Siamo immediatamente nella nostra stupida casetta Non abbiamo torci Facciamoci la spada Ho paura, raga ho paura, ho paura, ho paura, tanta paura, tanta paura, troppa paura No, 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 tanta paura, tanta paura, troppa paura Poca roba, questa è pochissima roba Dunque, pistone Sono un pro Dove sta, dove sta Ma non c'è Come non ci sei Sì, ce l'ho Grazie mille, grazie mille No, no, siete troppo gentili Daver me l'ho regalato Sì, sì, sì Certamente, mi avete regalato 20 miliardi Va bene Adesso, quando non si stava ancora a registrare Perché a volte si bug e poi lo registra Questo è il nostro adorato funghettino Scrivetemi nei commenti Come possiamo chiamare il fungo E poi mettete anche tanti like Dunque Un bel tappetino Comunque, secondo me Un nome Che lo rappresenta Capito? Un nome carino Che gli sta bene Poi, vabbè Sceglietelo voi Vediamo questo E tipo Di mettere tutti qua gli attrezzi E qua di fare un piccolo corridoio Tipo qua ci metteremo una fornace E qua una cesta Che in questo momento Non possiamo fare Quanto ci serve ancora? Sono nervoso Sono nervoso Sono nervoso Sono tanto nervoso Raga Lo so che Mi spunto un creeper Io Impazzesco Ho sentito un maiale Aspetto pure Che siamo in pacifica Mettiamo difficile No, no Normale Non ci sono creeper Vabbè Meglio di niente Ma ciao 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 Non facciamo una lotta? Eh? Vuoi fare la lotta? Funghito? Eh? Vuoi fare la lotta? Ah sì? Ok dai Siamo stupidi Perché Va bene E va Guardate come si cresce Qua Compa E che non ho il letto Mi ne manca uno Inventiamo Nuovi craft Questo Non mettiamo tutta La roba che abbiamo Nell'inventario Qua Tipo Ora che cosa viene? Sarebbe Sì Tipo Mettere 9000 craft E tipo Li unisci Sarebbe facile Fare questo Questi qua Non craftateli mai Questo Questo E questo Non ve li craftate mai Perché sono totalmente No Questo qua Non è inutile Però questi due Non ve li craftate Perché sono inutili Non fanno niente Poi No Aspetta qua Non craftatevi Questo O questo Questo Perché Credo che sia La stessa cosa Questo qua E La fornace È basso Perché questi qua Che fanno lo stesso lavoro Forse anche meno Questo qua È uno spreco Perché Non lo so Come funziona Ma Tipo Alla cesta cesta Però Ci sprechi il ferro Quindi Non è una buona idea Questo qua Sì È ottimo Sono tutti ottimi Questi qua Il miele Questo è ottimo Perché basta Bere questo E ti fa tutto Quanto Questo Sì Questo qua Tutti quanti Lo vorrebbero Bere Così Così Si servono Per riattivare L'enze del drago E Questo Non l'ho ancora Capito Come funziona Se me lo potete Scrivere nei commenti Perché Non so Veramente Come funziona Questo È questo Ma sente che Può sparare Le frecce Questo è anche Più difficile Che da fare Quindi Quasi Come si craftano Ok Vabbè La testa di creeper No È impossibile Ma Manco Quella Di scheda Normale Al fiore La Gigio Cos'è Però Questa qua Non è Naturale No Non è Ancora Giorno Vabbè Sono tutti Cibi Ottimi Che dovremmo Bere Vabbè È Tutto Abbastanza Facile Non possiamo Guardare Lo scudo Ok Ci manca Il ferro L'arco Tutta roba Interessante Questo Sì che Sto Questo È meglio Farsi L'arco Però Cos'è Allora Questo È Il dato Negativo Di questo È che Se te lo carichi Non puoi Cambiarlo Questo Invece Il dato Negativo È che Ci mette Tanto A costruirlo Questo Invece Per caricare Le frecce Lo fai Super veloce Questo Ci mette Un sacco Però Il vantaggio Della balessere È che Quando Se la crafti Puoi caricarla Aspettare Cioè Ti resta caricata Puoi usare In qualunque momento Invece L'arco Se ce l'hai caricato Te lo devi sprecare Il corpo E quindi È un spreco Qui viene l'ansia Camminiamo su e giù Per la casetta Colpiamolo Un colpo Uno Due Ho un'idea Bella Bella Questo sarà il nostro Cosa per allenarci No 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 È mattino È mattino Siamo sopravvissuti La notte Che bello Se vi state chiedendo Come è fatta questa casa E allora Avevo fatto un altro video Mentre costruivo Ma è venuto malissimo E quindi non l'ho pubblicato Perché Era Alfinante Però La casa è venuta Microscopica Quindi non c'era molto da vedere Perché poi A volte si riempie la memoria Ora è vuoto Praticamente Perché abbiamo levato un po' tutto Ma Questa cosa è abbastanza simpatico Dobbiamo dare un nome al fungo E allo cosa che dobbiamo picchiare Una porta Scusa perché andare in giro Con uno stick Quando sarebbe meglio andare in giro Con questo E dobbiamo trovare C'è anche il piccolo La Dunque Quanta legna abbiamo Aspetta che quanto Sette No va bene va bene va bene Va bene Per scappare Cos'è quella caffè gialla Un fiore Mi dispiace pecore la tuora Facciamoci un lettino così stanotte Non dobbiamo farci l'inferno Per andare a dormire Ovviamente sono crudele Quindi non smonterò Non lo smonto Si fanno i lavori Abbattiamo la casa Dunque 1 2 3 4 Raffiamocci tutto Raffiamocci Non scelgo Ho sentito il rumore Di quando un creeper inizia ad esplodere Così ha fatto Quando un creeper fa così Ma vi giuro che quando i creeper mi esplodono Io divento matto Divento matto Perchè proprio ti senti Ok Ponto di generationer impostato Poi dormire soltanto di no La chat fa schifo perché impostato in inglese per il miscaliano ed è venuto malissimo E ancora ha un accento in inglese che mi fa vomitare Ok io odio scendere nelle caverne Prendiamoci un po' di cordone che è meglio Ora rompo questo blocco E mi trovo il diamante Sarebbe bellissimo Ok Mi serve un po' di pietra Direi proprio di sì Quanti servivo Quanti servivano per fuori la 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 Fornace Quindi Dovrebbe bastare così Ora siccome io odio stare nelle caverne Torniamocene a casa Vabbè Facciamoci La Fornace Piazziamola E direi con Questo video Posso concludere così E ci vediamo al prossimo episodio